Assessore Pepe, un risultato importante per Campli e una visita significativa del Presidente del Consiglio proprio oggi qui a Campli? Una visita molto significativa del Presidente Gentiloni, voluta fortemente dal Governatore D'Alfonso, in un comune cratere come Campli dove si installa la fibra ottica, che ci consentirà di essere connessi con l'Italia e con il mondo, un investimento importante per le nostre famiglie, per le nostre imprese, ma soprattutto nelle aree terremotate è davvero un segnale significativo e di testimonianza importante. La scelta proprio su Campli? Ma io penso perché Campli fa parte delle aree interne e poi fa parte delle aree terremotate, quindi un doppio significato, investire qui attraverso la fibra ottica significa investire sul futuro delle nostre aree interne.